Questa sera diamo inizio a una seduta speciale denominata Question Time. Il primo Question Time della storia di Agropoli svoltosi ieri giovedì 31 gennaio nell'aula consigliare Alfonso Di Filippo ha visto la partecipazione del sindaco di Agropoli Adamo Coppola, del presidente del consiglio Massimo Laporta, del segretario comunale, degli assessori Serra, Mutalipassi, Lampasona, Santo Sosso, Benevento e dei consiglieri Crispino, Di Filippo, D'Arienzo e Botticchio. Da registrare la curiosa presenza del consigliere Caccamo tra il pubblico e quindi assente tra i banchi dell'Assise e la particolare assenza del consigliere Abbate che aveva fortemente voluto l'istituzione del Question Time. Quattro in tutto le interrogazioni presentate, tre dalla consigliera Botticchio e una del consigliere Di Filippo. Dopo la lettura del regolamento, Botticchio ha esposto la prima interrogazione riguardante il problema della posidonia spiaggiata, chiedendo di conoscere quali siano i tempi e le azioni da intraprendere per la problematica. All'interrogazione ha risposto l'assessore Benevento, il quale si è recato persino al Ministero con l'ingegnere Sica, senza ottenere risultati. Sembra che al momento non ci sia soluzione alternativa alla onerosa rimozione. Essendo la posidonia un rifiuto speciale, pertanto la situazione rimane in stallo, in attesa probabilmente di una legge apposita che regoli il problema. Non rispettando i tempi di risposta, si è passati alla seconda interrogazione, sempre da parte della Botticchio. Tema la manutenzione stradale del comune di Agropoli, che da diversi anni è interessato da lavori e ciò ha comportato diversi disagi. Il sindaco Coppola ha risposto che una città moderna non può non adeguarsi al progresso, pertanto gli scavi frequenti sono stati dovuti ad adeguamenti infrastrutturali che si sono alternati, tipo gli scavi per il gas metano, la banda larga, la rete fognaria, con la distinzione tra acque bianche e nere, l'energia elettrica. A seguire è arrivato il turno del consigliere Di Filippo, che ha interrogato il sindaco sulla disastrosa condizione economica in cui si trova il piano di zona Salerno 8 e di cui Agropoli fa parte. Di Filippo ha chiesto quale siano le azioni da intraprendere, visto che non sono stati attivati nemmeno i servizi essenziali per le persone disagiate e soprattutto vorrebbe conoscere la rendicontazione economica e finanziaria del piano, richiesta più volte dal 2014 ad oggi ma mai recapitata al comune di Agropoli. Il sindaco ha risposto che il problema è da attribuire alla direzione dell'ufficio di piano per la scarsa capacità di amministrare, pertanto auspica che nel prossimo coordinamento istituzionale si trovi una soluzione e che il piano di zona possa essere trasformato in azienda consortile. L'ultima interrogazione riguardante la manutenzione degli edifici scolastici e sportivi è stata presentata ancora una volta dalla Botticchio, non avendone però diritto, perché da regolamento al massimo si possono presentare due interrogazioni. Ma il presidente Laporta è stato magnanimo, considerato che è stata la prima seduta di Question Time, ha lasciato correre e ha dato la possibilità alla consigliera di esporre il terzo quesito. A rispondere gli assessori Santososso e Lampasona, i quali hanno riferito che le perdite d'acqua e il sovraccarico dell'impianto elettrico all'interno di un istituto scolastico sono stati risolti e hanno annunciato che tra qualche mese l'istituto comprensivo Agropoli San Marco sarà di nuovo funzionale perché in giunta sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture di cemento armato degradato.